Una violazione di ogni diritto nazionale e internazionale, così Giulietto Chiesa, giornalista ed ex eurodeputato, ha commentato il suo arresto a Tallin in Estonia, dove avrebbe dovuto parlare a un convegno sulla Russia. Chiesa ha passato quattro ore in carcere senza che gli fosse notificato un mandato d'arresto, oggi sarà espulso dal paese, convocato d'urgenza l'ambasciatore Estone dalla Farnesina.